buongiorno a tutti ragazzi la carta è già caduta a questa lettura della bilancia quindi la mettiamo qui e noi iniziamo vedremo sia per le coppie che per i single come andrà questo mese e se non dovesse risuonare con tutti voi considerando che è una lettura generica io vi consiglio di guardare le letture del vostro segno ascendente o del vostro segno di luna sicuramente fra queste troverete quella che state canalizzando voi ora come per la bilancia questo mese abbiamo un'energia da asso di bastoni ragazzi ma non solo l'asso di bastoni ma se guardate anche un po' nell'insieme questa stesa vediamo quanta energia sessuale c'è nell'aria una roba che si taglia con il coltello perché gli studenti di secondo livello sanno che l'asso di bastoni parla di sessualità il diavolo ne parla la torre ne parla e quindi mettere e vedere queste carte in un'unica stesa tutte insieme è un chiaro 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 esempio cioè una chiara manifestazione del fatto che l'energia sessuale sarà al centro del del gioco al centro dei giochi questo mese perlomeno per uno dei due per quello che sta da questo lato decisamente ma cominciamo perché innanzitutto con l'asso di bastoni possiamo dire che sicuramente sarà un mese di nuovi inizi sarà un mese in cui nasceranno nuove coppie sì potrebbe assolutamente essere così qualcuno di voi appunto inizierà una bella nuova relazione e mentre invece per quelli di voi che stanno già insieme sono già in coppia l'asso di bastoni rappresenta il nuovo inizio oppure quel qualcosa di nuovo che noi immettiamo nell'ambiente esterno immettiamo una forza un'energia un'azione perché con i bastoni si parla di azioni ed ecco che facciamo qualcosa di nuovo decidiamo o con il nostro partner o per il nostro partner noi decidiamo di fare qualcosa di nuovo e fu così che anche molte relazioni che sembravano terminate in realtà avranno un'altra opportunità di rinascere di di sperimentare un modo diverso di stare insieme e quindi vedere davvero se c'è un'altra opportunità bella energia sicuramente quella dell'asso di bastoni un asso diritto che promette bene e che ci dice comunque che se noi davvero ci impegniamo in questa cosa se noi davvero siamo come dire se noi oltre a mettere le intenzioni buone siamo anche capaci di migliorare noi stessi in quello che abbiamo sbagliato finora piuttosto che guardare gli errori dell'altro questo è un qualcosa che ha tutte le potenzialità per poter funzionare o comunque tutte le potenzialità per poter partire alla grande la partenza ragazzi la partenza è fantastica ciò significa che se noi questa partenza la incanaliamo e la indirizziamo nel modo giusto può portare anche a un buon proseguimento ma rimarremo alla partenza per questo mese perché stiamo guardando solo ed esclusivamente questo mese quindi andiamo un po più nei dettagli e vediamo in che modo gli eventi si svolgono e le energie si muovono fra i due chi sta da questo lato si sente come un'imperatrice ciò che prova per l'altro è un nove di bastoni desidera un cinque di spade si comporta come un sei di spade è il suo segreto il fante di coppe dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come il diavolo desidera prova l'asso di spade desidera la torre agisce come una regina di denari il suo segreto è il tre di spade che cosa si vede da questo beh ragazzi la solita solfa la solita storia che quando uno dei due scappa l'altro lo insegue perché così che siamo fatti siamo esseri umani e nel momento in cui capiamo che stiamo per perdere qualcosa che fino a ieri era fra le nostre mani o poteva esserlo ecco che noi ci rendiamo conto che oh mamma mia sta scappando e come faccio se scappa e allora me lo vado a riprendere ecco dinamica questa per la maggior parte di voi ora io comincerei da chi è in coppia appunto da tutte quelle coppie che comunque da quelle persone che stanno già insieme da un po ma che stanno questo mese scegliendo di darsi un'altra opportunità e che stanno scegliendo di fare anche le cose in modo diverso perché in effetti è chiaro quando ci sono all'interno di una relazione delle dinamiche che non funzionano benissimo e che fanno male a uno dei due o entrambi l'unica cosa da fare è modificarle ed è appunto cambiare punto di vista cambiare strategia agire in modo diverso pensare e ovviamente anche in modo diverso ed è qui che aiutano i percorsi di coaching insegnando a pensare in modo diverso però ecco una volta fatto questo cosa che si può fare benissimo anche da soli ragazzi non c'è bisogno del terapeuta del coach o del counselor importante che voi capiate qual è il vostro meccanismo disfunzionale e troviate una soluzione alternativa cioè non dovete dire sono sbagliato faccio le cose sbagliate non le devo fare più perché quello non serve a nulla quello che dovete dire sì sono sbagliato faccio le cose sbagliate allora che cosa posso fare per farle invece correttamente questa è la strategia giusta ora per chi è in coppia quello che si vede è che uno dei due si è sentito un attimo perso gli è proprio mancato il terreno da sotto i piedi all'idea di non poter più avere l'altra persona all'idea di perderla e di combinare un patatrac e e questa situazione ha provocato comunque un forte dolore probabilmente questa persona che sta da questo lato non immaginava nemmeno quanto sarebbe stata male all'idea di dover rinunciare all'altra o all'idea di perdere l'altra ma appunto una volta invece hai capito che il rischio c'era ecco che tutto torna a galla ed ecco che tornano a galla il bisogno dell'altro con la carta del diavolo perché il diavolo indica bisogno anche tossicità a volte perché quando il bisogno non è accompagnato da qualcosa di equilibrato io ho bisogno di una persona beh un conto è che io ho bisogno di te tu hai bisogno di me ma stiamo bene insieme e un conto è che io ho bisogno di qualcuno che non mi fa star bene o di qualcosa che non mi soddisfa quindi a volte il diavolo parla anche di situazioni tossiche ma in questo caso quello che vedo è semplicemente che questa persona rendendosi conto che stava perdendo questa perché questa si stava proprio stufando ha deciso di andarsela a riprendere e di recuperarla ora in realtà il gesto di andar via nascondeva nascondeva dei sentimenti o meglio forse nemmeno li nascondeva perché si è chiaro questa persona era stata male ci aveva sofferto aveva si era comportata in maniera impeccabile potrei dire vabbè no impeccabile no perché le responsabilità sono sempre a 50 e 50 però c'è sempre uno dei due che fa di più per mantenere la relazione c'è sempre uno dei due che dà di più ed ecco che io credo che questa fosse la persona che dava di più che ha resistito fino all'ultimo perché comunque questa cosa era importante perché o il sentimento era forte o la situazione comunque era importante e quindi voleva andare avanti voleva continuare ed ecco che questo sentimento ha retto ma a un certo punto quando si ci rende conto però che bisogna anche ricevere oltre che dare ecco che si arriva al 5 di spade e cioè al desiderio di rivalsa il desiderio di avere quello che ci spetta quindi questa persona capace di allontanarsi con un 6 di spade poi qualcuno si sarà allontanato o si starà allontanando fisicamente mentre qualcun altro magari che vive sotto lo stesso tetto o che si trova in una situazione diversa non può allontanarsi fisicamente ma lo fa emotivamente lo fa mentalmente e e il segreto è il fante di coppe il segreto è il fante di coppe e cioè io sono ancora qui se tu sai come venirmi a riprendere io sono ancora qui se tu mi fai capire che ne vale la pena non sono i miei sentimenti non sono scomparsi sono pur sempre un'imperatrice che anche se non si sente esattamente alleggerita dalla vita perché con il nome di bastoni questa è un'imperatrice che ha davvero dovuto gestire il suo impero e non solo il suo impero esteriore ma ha dovuto fare tanti tanti sforzi per gestire il suo impero interiore fatto di emozioni fatto di contrasti fatto di sofferenze ed ecco che questa imperatrice stanca prova comunque qualcosa non ha dimenticato l'amore non ha dimenticato cosa c'è alla base di tutto ed ecco che appunto è come se mandasse il messaggio guarda che se vuoi riprendermi devi solo capire come fare ma devi essere tu a venirmi a riprendere devi essere tu a fare le mosse giuste e dall'altro lato queste mosse vengono fatte perché perché probabilmente una personalità da questo lato non è per tutti così e voglio sempre sottolinearlo perché non è ovviamente queste sono stese generiche ma purtroppo da questo lato c'è per qualcuno di voi una personalità narcisistica e purtroppo in certi casi vedo anche una pesantezza in questa personalità che poveri voi se non siete voi quelli pesanti cioè se voi siete le vittime poveri voi ripeto non è così per tutti però per qualcuno c'è il narcisista patologico il sociopatico borderline di turno che che ne ha fatte tante ne ha combinate tante adesso sta pagando le conseguenze in emotività perché questa è una persona che adesso sta davvero pagando in emotività e sta male il 3 di spade parla proprio di questa sofferenza che poi è nella posizione dei segreti quindi nel caso del narcisista questa sofferenza è veramente un lo stimolo e la spinta può rappresentare lo stimolo e la spinta a fare di meglio problema del delle personalità narcisistiche è che difficilmente senza una guida riescono tra virgolette a cambiare a guarire e altra cosa purtroppo difficilmente le personalità narcisistiche riescono a cambiare a guarire con una guida quindi questa è una cosa che notiamo tutti nel nostro settore da dal dalla psicologia più tradizionale terapeutica al coaching al counseling e a tutte queste nuove tecniche di crescita personale che vengono oggi che si sviluppano sempre di più ci si rende conto che le personalità narcisistiche rispetto alle personalità dipendenti definite anche masochiste hanno molta più difficoltà a cambiare a guarire perché la loro impostazione di base blocca il desiderio di cambiamento o comunque da un lato blocca il desiderio di cambiamento dall'altro lato fa apparire questo cambiamento come difficilissimo quasi impossibile ed ecco che il narcisista per vari motivi fra cui orgoglio senso di superiorità rispetto anche al terapeuta che possibilmente potrebbe aiutarlo non li fa questi percorsi però mi dispiace ovviamente per quelli di voi che si trovano con il narcisista patologico è evidente che questo narcisista patologico questo mese potrebbe potrebbe tentare di riprendervi se voi scappate allora adesso parliamo invece di gente più normale un po più equilibrata e vediamo quelli di voi che non hanno questa problematica così forte sicuramente qualcosa è accaduto e sicuramente voi siete arrivati al limite perché vi siete stancati di sopportare ma in questo caso appunto come si vede l'altra persona è disposta a riprendere tutto nelle proprie mani e quindi riconquistare l'altro sono curiosa di sapere se siete voi quelli che scappano e vengono inseguiti oppure voi siete quelli che inseguono perché avete fatto la cavolata nulla di grave comunque perché la situazione è assolutamente recuperabile anzi verrà recuperata ragazzi verrà recuperata ci sarà un nuovo inizio ci sarà un nuovo tentativo dunque se questo è quello che temete non vi preoccupate pacchino che cosa succede devi uscire scusate ma sto facendo da dog sitter quindi non ho solo il mio cane io in questi giorni ma ne ho due e uno si è infilato nello studio torno subito pacchino vai fuori amore dai vai da lei la vai dalla principessa lei la giocare eccomi qui perdonate l'interruzione adesso io direi a quelli che sono in coppia comunque di godersela perché se voi siete da questo lato e siete quelli che comunque sono stati feriti sono stati trattati così così e poi si sono rotti le palle adesso stanno aspettando di vedere delle cose godetevela perché queste cose arrivano perché l'altra persona sta talmente tanto male in questo momento che farebbe qualunque cosa per riprendervi quindi davvero godetevela cioè se state con un narcisista se state con una persona anaffettiva se state con una persona che ha difficoltà relazionali ha difficoltà a creare delle relazioni dei legami reali e profondi questi sono quei rari momenti in cui quelle persone si aprono e diventano come dei bambini tirano fuori l'anima e quindi se sapete come gestire questo momento potete averne dei benefici non dico sul lunghissimo termine ma di certo sul breve termine sì ed è poi ragazzi io in queste situazioni io consiglio sempre o una sessione di coaching per chiarirvi le idee o un pacchetto che oltre alla lettura comprende il coaching perché quando si tratta di dinamiche relazionali un po pesanti e tossiche dove alcuni aspetti malati dell'essere umano entrano in gioco è sempre bene avere un parere completo su quello che vi sta succedendo ed è sempre vero bene capire come risolverlo quindi facciamo le cose per bene se il caso è questo per quelli di voi invece che stanno semplicemente vivendo appunto questo momento di rinascita ed ecco che ritorna la passione ritorna il fuoco mi raccomando non cedete troppo presto fate se l'altra persona se lo merita fatela penare un pochino se invece l'altra persona non se lo merita perché comunque non ha fatto poi niente di così grave sappiate che quella persona sta lì per voi cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo maio iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com ma passiamo adesso a chiesingol perché chiesingol non sarà più single molto probabilmente questo mese e non solo la storia d'amore che mi si proietta davanti è quella di una persona che ha desiderato tanto qualcuno e proprio quando era pronta a rinunciare ecco che questo qualcuno arriva con il suo cavallo bianco qui però devo fare una parentesi perché mentre per qualcuno di voi questa persona arriverà davvero sul cavallo bianco come un principe che finalmente vi mostrerà il suo amore per qualcun altro invece questa persona non arriverà proprio col cavallo arriverà sì 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 di arrivare arriva non è quello il punto il punto è che appunto come dicevo prima quando parlavo delle coppie se ci sono delle personalità un po disturbate un po narcisistiche cosa che non è per tutti ma per qualcuno c'è e si deve dire e questa persona potrebbe arrivare con un cavallo di troia cioè potrebbe arrivare con un cavallo che in realtà fa più male che bene che sembra un dono ma che poi dentro nasconde il nemico e non è fatto apposta ragazzi non è questa è una cosa che dovete capire il narcisista non è contento di essere cattivo o di comportarsi in modo cattivo perdonate nessuno è cattivo ma si ci comporta in modo cattivo e il narcisista non lo fa perché vuole non lo fa perché pensa che sia bello o che sia giusto se fosse così ragionate un secondo se fosse così sarebbe ben felice e ben lieto di dirlo a quattro venti di parlare del suo egoismo e della sua crudeltà come se fosse la cosa più furba da fare nel mondo se queste cose vengono nascoste e le persone manipolano per nascondere la loro vera natura è perché sanno che è sbagliato sanno che la società non accetterebbe quei comportamenti ed ecco perché il cavallo di troia deve far finta di essere un cavallo deve deve far finta di essere un principe azzurro sul cavallo ma dentro chi sa che c'è ed ecco allora che io vi dico ci sono dei segnali per riconoscere certi tipi di personalità narcisistiche e negli ultimi 3-4 anni sono nati canali bellissimi che ne parlano veramente bellissimi e tempo fa era un mio progetto aprire un punto 3-4 anni fa era un mio progetto aprire un canale che parlasse di questi argomenti ma non l'ho fatto per questioni di tempo e comunque vedo che ci sono altri professionisti molto in gamba che affrontano questi temi in un modo che secondo me è ottimale per farvi comprendere le cose quindi io qui ovviamente devo fare la distinzione devo fare la distinzione fra quelli che si trovano in una in un bellissimo nuovo inizio bello pieno di passione ragazzi la passione a go go quindi qua l'energia sessuale veramente schizza da tutte le parti e soprattutto proprio chi dei due in questo momento sta inseguendo è il portatore sano di energia sessuale proprio carico 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 dall'altra parte c'è chi se la sta un po' tirando e ha anche ragione a tirarsela perché insomma c'è un limite a tutto ma ecco che tutto è bene quel che finisce bene e che le cose prima o poi arrivano ma quando arrivano quando voi non le volete più o meglio quando voi siete disposti a lasciarle andare questo è il segreto questo è uno dei segreti che spiego nei videocorsi quando si parla di legge d'attrazione quando si parla di energia come attrarre di qua come creare di là come fare magia di su e di giù è comunque uno dei messaggi forti che questa stesa manda soprattutto credo proprio a voi bilance che vi sentite un po' più vittime delle situazioni non a chi si sente carnefice ma chi si sente vittima devo dire lascia che le cose e le persone vengano a te perché questo il segreto per non essere vittima è questo il segreto per poter trovarsi sullo stesso livello io ti voglio tu lo sai se anche tu mi vuoi devi venire tu non posso inseguirti io perché se ti inseguo io non siamo sullo stesso livello vediamo però che cosa accade nell'incrocio fra il segno della bilancia e i 12 segni dello zodiaco quindi vediamo un pochino che cosa sta accadendo nelle sfere celesti fra un pianeta e l'altro nelle loro infinite circonvoluzioni e nel frattempo ragazzi io vi ricordo che mentre per avere una sessione privata con me o un pacchetto il modo migliore è inviare una email o andare sul sito internet per diventare miei studenti e avere magari semplicemente informazioni sui costi le promozioni gli sconti per chi si iscrive a più di un corso e buono 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 caduto tutto allora io vi consiglio sui videocorsi di inviare un messaggio whatsapp al 338 8191267 senza impegno vi metterò in contatto con elisa la mia collaboratrice ci penserà lei a fare quattro chiacchiere con voi a dirvi tutto e poi sarete liberissimi di decidere se iscrivervi a cosa iscrivervi o semplicemente curiosare e nulla più cominciamo quindi questa la mettiamo qui e vediamo un po che cosa ci dicono le nostre cartine e allora bilance bilancini che avete che state interagendo con l'ariete io credo che l'ariete in questo momento ha paura di agire paura di prendere le iniziative il toro è indeciso fra voi e un'altra persona il gemelli è molto interessato a voi invece quindi sappiatelo e sappiate comunque gestire la cosa il cancro ha paura delle conseguenze sono curiosa di sapere quali conseguenze tremende voi potreste causare a un cancro il leone non con il leone non avete nessun motivo di cui preoccuparvi quindi ecco togliete un po le ombre grigie dal vostro dalla vostra vista la vergine con la vergine gli eventi stanno per accadere molto rapidamente bilancia con bilancia uno dei due ha diverse opzioni o tutti e due addirittura avete diverse opzioni quindi va fatta una scelta a meno che non state giocando scorpione lo scorpione cerca di uscirne lo scorpione vorrebbe essere felice vorrebbe avere di meglio vorrebbe essere più spensierato perché cosa avete fatto allo scorpione ditemi ditemi cosa avete fatto allo scorpione sagittario uno dei due non è abbastanza coinvolto capricorno questa cosa sembra che non vi sta portando da nessuna parte ragazzi aprite un po gli occhietti acquario un sentimento che cresce forte ogni giorno bene potrebbe promettere qualcosa di buono e infine con il pesci non è ancora arrivato il momento di agire non ancora non ancora tenetevi pronti e ora vediamo un po che cosa gli angeli hanno da dirci risolvi le questioni familiari ragazzi è sempre lì ogni volta che noi abbiamo problemi relazionali questi problemi relazionali hanno un'origine ovviamente dalla nostra famiglia di origine quindi per quelli di voi che devono risolvere delle cose a livello della propria famiglia di origine fatelo perché quello ha delle conseguenze sulla vostra vita amorosa se invece voi avete già una famiglia e le vostre questioni da risolvere sono all'interno della vostra famiglia che avete creato fatelo non fate finta di niente non pensate che le cose si risolvano da sole o che sia normale che tutto vada male perché tanto anche gli amici ci raccontano che va male no non è che siccome la norma è la malattia e la schizofrenia di questo pianeta allora anche noi dobbiamo adattarci alla schizofrenia del pianeta io vi ricordo care anime che state ascoltando io vi ricordo che noi ci siamo incarnati in questa epoca proprio per partecipare al cambiamento quindi tutti noi che siamo nati adesso siamo responsabili di uscire dal nostro karma personale uscire e risolvere il karma familiare aiutare gli altri a risolvere il loro karma quindi non giochiamo non stiamo lì a cantarcela e a personarcela come se le cose non dipendessero da noi e non fossero nostra responsabilità perché gli altri sono sbagliati qui noi dobbiamo prenderci le responsabilità di aggiustarci e dobbiamo come minimo aggiustare noi stessi di certo non possiamo aggiustare gli altri ma se aggiustiamo noi stessi automaticamente anche gli altri saranno molto stimolati ad aggiustarsi perché è così che funziona l'universo la legge dell'entanglement spiega questo fenomeno questi fenomeni la fisica quantistica ormai spiega come funzionano come funzionano tutti i meccanismi a livello energetico metafisico io ragazzi vi lascio con questo perdonate perdonate e la vostra vita amorosa ne trarrà raggiovamento quindi se c'è da perdonare i vostri genitori fatelo se c'è da perdonare quelli che vi ricordano i vostri genitori perché hanno degli atteggiamenti simili ai vostri genitori fatelo e come fate a perdonare non potete perdonare se avete dentro tanta rabbia e deve essere scaricata questa rabbia prima scaricate la rabbia in un modo sano se non sapete come ragazzi coaching chiedetemi una sessione di coaching o un pacchetto che comprenda la lettura e il coaching perché avete assolutamente bisogno di sciogliere delle energie per poter poi ritrovare la vostra centratura per il resto ragazzi come sempre vi mando un saluto un abbraccio spero di esservi utile ci vediamo alla prossima